All'Ecomuseo di Moncenisio sono stati presentati i risultati del E-Health Territorial Lab, un'azione pilota finanziata con il progetto europeo Ecoris 3, realizzata dalla città metropolitana di Torino con il consorzio Topix. Grazie alla collaborazione dell'AS-Totre e del consorzio socioassistenziale Valle di Susa-Valsangone con Isa, il progetto ha coinvolto 12 ultra 65 anni residenti in Valcenischia, nei comuni di Moncenisio, Novalesa, Venaus e Monpantero e nel comune di Giaglione, che si sono resi disponibili per una telerilevazione dei loro parametri sanitari. L'obiettivo della sperimentazione era duplice, migliorare l'offerta di servizi alle persone testando il telerilevamento in zone montane e rurali, ma anche abilitare il territorio con infrastrutture e conoscenze indispensabili a renderlo un ecosistema e un mercato interessante per le imprese. I beneficiari della sperimentazione hanno rilevato in autonomia i dati medico-sanitari come la pressione sanguigna e il ritmo cardiaco e li hanno inviati tramite un'applicazione web al loro medico di base, che può così verificare a distanza lo stato di salute dei suoi assistiti. L'azione pilota vuole mettere a sistema il settore pubblico, la società civile, le organizzazioni di ricerca e tecnologiche, le piccole e medie imprese, per sviluppare nuovi modelli di business più attenti al sociale e al territorio. La Valcenischia è facilitata dal fatto di disporre di un'infrastruttura telematica a banda ultralarga. Il dottor Matteo Ballesio della struttura semplice ricerca e innovazione dell'ASL-Tot3, qual era l'obiettivo come ASL-Tot3 da perseguire in questa sperimentazione? L'obiettivo era avvicinarsi ai pazienti nelle aree rurali e migliorare l'assistenza. Obiettivo perseguito secondo voi? Perseguito pienamente e adesso puntiamo ad implementarlo e migliorare l'assistenza anche in altre aree dell'ASL. Quindi questi potenziali pazienti, non parliamo di pazienti, persone che hanno accettato di partecipare a questa sperimentazione, venivano morintorati in particolare su quali parametri? Principalmente i parametri come pressione circolatoria, frequenze cardiaca, saturazione e temperatura corporea. Noi veramente oggi siamo qui in questa bella anteprima di cornici invernale a Moncenisio, con molto piacere perché ci crediamo molto in questo progetto. È una potenzialità che può venire molto molto utile ai nostri comuni che sono molto spesso isolati perché la comunità dei montanari ha sempre grandi problemi, specialmente negli spostamenti, nel periodo invernale. Questo progetto potrebbe veramente permettere di inviare dei dati e di essere in contatto con la sanità senza muoversi da casa.